Ciao a tutti da Fargio, volete scoprire una bellissima storia di Formula 1? Bene, l'automotorbook di oggi è esattamente quello che fa per voi. Lambo in fretta e furia, la storia di quella che doveva essere la prima squadra di Formula 1 messicana e invece divenne l'ultimo grande orrà nella massima formula per il grandissimo Mauro Forghieri, una storia incredibile che si è trascinata per tutto il campionato del mondo 1991 toccando il picco di massima tragicità proprio qui a Imola e questa storia è raccontata da colui che fu non solo un giornalista professionista in prima linea in quegli anni ma anche e soprattutto l'addetto stampa di quella squadra, Leopoldo Canettoli. Quindi l'automotorbook di questa settimana che vi consiglio caldamente è Lambo in fretta e furia, Leopoldo Canettoli edizioni Minerva ricchissimo anche di immagini, quindi cercatelo, leggetevelo, godetevelo e poi soprattutto aspetto i vostri commenti e sempre piedi sul gas.